Andiamo ora a sentire l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Lombardia, Maurizio Del Tenno. Assessore Del Tenno, giornata dedicata alla Pedemontana. Sì, è la prima visita del Presidente Maroni, abbiamo lavorato molto in ufficio, ma gli ho detto appunto che era importante rendersi conto direttamente, così è stato, è stata secondo me un'importante visita, sempre meglio toccare con mano. Ecco, questa è la dimostrazione che nonostante il momento di crisi i lavori, le grandi opere vanno avanti. L'abbiamo sempre detto, noi abbiamo un passo non da centometrista, continuo a dirlo, ma da maratoneta, affrontiamo un problema alla volta per risolverlo e quindi siamo certi che i lavori continueranno così come abbiamo sempre stabilito. E come sempre c'è una commissione tra pubblico e privato per riuscire a trovare i fondi necessari. Assolutamente, ma la prima notizia credo che positiva sia quella di pochi giorni fa, della defiscalizzazione da parte del Governo. Quindi direi che è un buon inizio del nostro lavoro, ci saranno molte evoluzioni, sapete dalla vendita delle partecipazioni, degli enti, insomma i privati disponibili ovviamente a partecipare. È un momento delicato ma positivo, di grande fermento che nei prossimi mesi appunto siamo sicuri raccoglieranno i frutti per poter proseguire con serenità. Quindi tanti lavori in vista anche dei prossimi mesi. A settembre avete cominciato a lavorare forte in Regione Lombardia. Sì, non solo su Piedemontana, anche se Piedemontana ovviamente per noi resta l'opera principale, l'infrastruttura, è l'infrastruttura per Regione Lombardia. Ma ovviamente di infrastrutture ce ne sono tante altre e già a fine agosto non abbiamo mai quasi smesso. Insomma, riteniamo il momento delicato, importante, bisogna sempre esserci, è importante per cogliere l'attimo e a volte vuol dire anche abbreviare le risoluzioni ai problemi. Per quanto riguarda invece i trasporti, arrivano brutte notizie dal Veneto, alcuni treni diretti Lombardia-Veneto verranno cancellati. Sì, io vorrei ricordare che questo avviene perché sono stati tagliati i fondi governativi, i fondi TPL del 30%. Ricordo che Regione Lombardia è l'unica regione italiana che è riuscita con fondi propri a superiore questi tagli per 400 milioni di euro. Quindi provate a immaginare lo sforzo e i sacrifici. Tutte le altre regioni non sono riuscite a farle e ovviamente l'azione è quella di tagliare. Il Veneto ha ritenuto di tagliare queste tratte, stiamo dialogando con loro ma con il rispetto con un'altra regione che si trova in un momento di difficoltà. Ovviamente ho detto a più riprese che gli oltre 4 milioni di euro per cercare di ripristinare queste tratte. Regione Lombardia in questo momento non può spenderli ma stiamo cercando di trovare delle soluzioni ovviamente per cercare di andare in contri pendolari.